E' all'Aquila l'ultima tappa del tour primaverile di Pala Comieco, l'iniziativa itinerante del Comieco, Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi a Base Cellulosica. Porta nelle piazze italiane per avvicinare adulti e bambini ai temi della raccolta differenziata e del riciclo di carta e cartone. In collaborazione con il Comune dell'Aquila e Aquilana Società Multiservizi S.P.A., dal 19 al 22 aprile, sarà possibile conoscere le mille vite della carta direttamente in piazzale dei caduti del soccorso in Villa Comunale, con ingresso libero tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 19. Come nascono carta e cartone? Come si differenziano i rifiuti in modo corretto? A cosa serve la raccolta differenziata che i cittadini fanno? A queste e a molte altre domande risponderà la Palacomieco, attraverso installazioni interattive e divertenti giochi quiz. Palacomieco svela le diverse fasi del riciclo e del ciclo della carta e del cartone e mostra come raccolta differenziata e riciclo possono dar vita ad un perfetto esempio di economia circolare, con cui rifiuti e scarti tornano ad essere una risorsa o materia prima-seconda. Tre speciali scatole di cartone all'interno delle quali giocare con la raccolta differenziata per imparare, divertendosi. Il valore ambientale ed economico di un gesto così semplice e così importante. L'obiettivo è quello di crescere cittadini consapevoli e responsabili, in grado di compiere scelte e comportamenti sempre più sostenibili per il bene della collettività. Quasi 40.000 le tonnellate di carta e cartone raccolti per un procapite di 53 kg ad abitante. Questi i buoni risultati raggiunti dal Comune dell'Aquila nel 2017. Numeri superiori rispetto alla media provinciale che si attesta sui 44 kg ad abitanti e linea con il procapite nazionale 53 kg ad abitanti, ha dichiarato Piero Ottoma. Questi ragazzi debbono capire che già quello che si fa oggi non è per niente perso, perché ogni chilo di carta o cartone che viene raccolto nelle nostre case ha un seguito. Viene riciclato, ridiventa carta, ridiventa quindi imballaggio. Quindi come si dice, nulla si crea, nulla si distrugge. L'Aquila è in media nazionale, quindi l'Aquila sta facendo tanto. Può fare molto di più, noi siamo qua per spingere perché faccia di più, però ricordo che l'Aquila raccoglie 53 kg procapite e questa è esattamente la media nazionale. I dati di quest'anno sono assolutamente confortanti perché i primi tre mesi danno una proiezione per tutto l'anno che fa arrivare la percentuale al 60%.